Ehi ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori Nello scorso video ho iniziato le avventure qui al resort incredibile, all'ultima spiaggia E ho esplorato tutti quanti i piani che c'erano da esplorare Ho affrontato un po' di Alice Gary, ho recuperato la tessera VIP per accedere al quinto piano E andiamo a prendere quindi Obri E per proseguire la storia, altrimenti non se ne fa nulla Eccoci qui All right, vediamo un po' questi quadri Lord Joson Ok Zio Joson, tutti quanti Professor Joson Dottor Joson e Signor Joson, 1980 qualcosa fino ad oggi Oh, Berli Bene, 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 guarda chi è arrivato Vuoi parlare con il capo, non è vero? Mi dispiace fare la guastafeste, ma non posso far passare chiunque Oh, cavolo, davvero? E dai Berli, ci conosciamo da una vita Non puoi farci un piccolo minuscolo favore? Mi dispiace Kel, sono gli ordini del capo Oggi è un giorno speciale, quindi non vuole nessun disturbo Abbiamo una raccolta fondi di tofu da preparare Ma Berli, sono io il tuo amico Kel Ci conosciamo da una vita Pensa a tutte le cose che abbiamo passato insieme Ehi, smettila Mi hanno fatto capo della sicurezza per un motivo Volevano qualcuno di duro Capace di prendere decisioni difficili Una testarda Nel senso, guarda la mia medaglia Lo cieca tantissimo Veloce Kel, fatti venire in mente qualcosa Oh, certo Ehi Berli Il nostro amico Mori vorrebbe farsi assumere Lo sai che il capo non rifiuterebbe mai un altro paio di mani Hai ragione, però E dai Berli Dai, 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 dai Oh, va bene Vi farò passare Ma solo se mi portate una bottiglia d'acqua Ho una sete E noi ce l'abbiamo Per fortuna che l'ho comprata a 400 Quando me l'ha richiesto l'altro L'altro uomo elma Infatti, il fatto che aumentasse di prezzo A un certo punto mi ha fatto pensare Potrebbe servire Grazie, ti devo un favore Andiamo ragazzi Ho sentito che hanno della pizza nella sala di ristoro Pizza gratis Spero non ci abbiano messo l'ananas Grande Un fratello Un fratello Bene Proseguiamo, Raquel Wow Il gioco dell'impiccato Mi sa che procede male per me Perché ho trovato tre lettere In questi ultimi tre episodi Però Quattro tasti rimasti E non mi piace il modo in cui me l'ha detto Dovevo andare concierge Ah, certo Addirittura il piano del concierge abbiamo Salve Sono di nuovo entrato con i pagamenti Signor Joseph Non metterà la mia testa su un bastone Oddio Santo Ma ti impala? Il capo dice tutti di aspettare Chi si crede di essere Eh già Tutti così sono Oh mio dio è morto Non è in vita E me ne sono accorto È morto aspettando che lo chiamassero Poverino Darville Devo solo dire a Joseph Che un altro investitore Si sta tirando indietro Non ho colpe, giusto? Non ho idea di come far a Birgelo Non glielo dire Oh, prendo il receptionist Pronto? Per piacere Rimango in linea Pronto? Per favore Rimango in linea Pronto La prego Rimango in linea Poverina È oberata di lavoro Oh, Bree Siamo qui per liberarti Dannazione Kel Vattene Non vedi che sono occupata Dacci un taglio Obri Tu non sei davvero così Sapete che tre persone Nanno di sotto il loro appuntamento Oggi Tre persone Ora dovranno sistemare l'agenda Ma non so come farò A trovare dello spazio libero Con tutti questi inutili eventi programmati È come se non bastasse Stasera abbiamo una raccolta fondi Per giunta Raccoglieremo fondi Vendendone il tofu Quale persona Sono di mente Spenderebbe mai delle vongole Per comprare del tofu Ho provato più volte A farlo presente al capo Ma non mi ascolta È un incubo Ok Obri Ora voglio che tu prenda un grosso respiro Sto già respirando Kel Sto già respirando come Dio comanda Respiri profondi Obri Respiri profondi Tu non sei una segretaria Basil è sparito E dobbiamo ritrovarlo Ok anche la respira Sì dai Santi Numi Hai ragione Come ho potuto dimenticarmi Dobbiamo ritrovare Basil Omori Omori sei tu Devi essere venuto qui Per salvarmi Ah sono così felice Aspetta E' io Omori Devi farmi uscire da qui Possiamo andarcene Quando vogliamo Obri L'uscita è proprio lì Non è così semplice Kel Abbiamo siglato dei contratti Ricordi? Obri Obri Dove hai riferita? E' da 10 secondi Che sto provando a contattarti Come procede La riprogrammazione Mi dispiace signor Joson C'è stato un imprevisto Ciao signor Joson Dannazione Ancora tu Kel Pensavo di averti sperito Molto Molto lontano da qui Non ti abbiamo forse Letto di rimanere a tuo posto Beh sono andato Fin qui di persone Per dirti Che mi licenzio E porto obri con me Molto divertente Nel mio ufficio Kel Ora Glielo mando subito Anche tu obri Oh 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 Amici miei Dannazione Kel Mi farei licenziare Lo so Non è fantastico? Ah forza andiamo L'ufficio del signor Joson Lo raggiungeremo Usando l'ascensore Ma guarda Un po' di lavoro minorile Se tutti pagano i contributi Non è proprio malvagio eh Almeno puoi andare in pensione A 60 anni Ma ci puoi andare per davvero In pensione Non per finta Come i liberi professionisti Quelli non ci andranno mai in pensione Purtroppo Ok Si lotta contro il signor Joson È chiaro Boss fight Sto arrivando Quanto è alto sto posto? Che poi era una barca era Non è che fosse chissà cosa Smetti Ah era Ken che Mi fischiava Bellissimo Ah potevo andare avanti Pensavo di Ah ok No poverino Volevo continuare a stare a fischiare Pensavo fosse tipo La musica dell'ascensore Invece no Stupendo Ah signor Joson No volevo andare nell'ascensore Non volevo parlare con lei eh Sa com'è per esplorare Ah siete qui finalmente Salve signor Joson Va bene Bimbi Facciate che vi spieghi la situazione Come riuscita il contratto Voi avete consentito A lavorare per me Nel bene o nel male Senza essere pagati Per il resto Delle vostre vite Ok niente contributi Adora andiamocene E neanche Neanche paga normale Se è per questo Quindi proprio Via Ora Un contratto è come una promessa E voi non infrangereste mai Una promessa Dico bene Cavoli hai ragione Non possiamo infrangere una promessa Che si fa ora Obri Signor Joson È vero che l'abbiamo fatto una promessa Ma c'eravamo già promessi Che avremmo trovato Basil Il nostro amico scomparso Eh già è così Ciò significa che devi lasciarci andare Capisco E lo rispetto Una promessa è una promessa Obri Ti lascerò andare Ma devi portare Cal con te Davvero? Wow la ringrazio signor Joson Ma lei è troppo gentile Grandioso Vamonos Aspettate Ho come l'impressione Di essermi dimenticato di qualcuno Ah già Possiamo portare anche Il mio fratello Hiro con noi? Sei davvero un bambino simpatico Cal Vuoi che licenzi Hiro? Questa si che è bella Bellissima dico io Hiro è a mani basse Il miglior dipendente Che io abbia mai avuto Anche se della sua presenza aumenta le vendite del 700% Sarei un fonda a lasciare andare via un lavoratore come lui Che non viene pagato Chi arriva? Hiro! Signor Joson Ho appena finito di sistemare le scorte di Toku per la raccolta fondi come mi ha chiesto Le tavole sono pronte La stanza è decorata I bagni sono puliti E il cibo è fenomenale Se posso permettermi Ho anche lavato le finestre Dato una spazzata al pavimento Dato da mangiare ai suoi animaletti Ordinato la sua collezione di fieri occhiali da sole Ho fatto il bucato Oh Io ho portato il caffè Ho pensato che l'avrebbe fatto piacere Scusate il francesismo Ma Hiro sei un leccaculo? Avete visto bambini? Ottimo lavoro Hiro Davvero eccezionale Potrai anche prendere in considerazione l'idea di darti uno stipendio un giorno Davvero? Sarebbe un onore signore Oh ciao ragazzi Cosa fate qui? Stai cercando lavoro anche tu Amari? Hiro Che ti è successo? Non dirmelo Anche tu ti sei dimenticato di Basil Oh cavolo hai ragione Dobbiamo trovare Basil Come ho potuto dimenticarmi di una cosa così importante? Ah che ci facciamo qui? Dobbiamo andare subito a cercarlo Fermo all'Iro Non così in fretta Hai ancora un sacco di lavoro da fare Dovresti esserci tu ad inaugurare la raccolta fondi stanotte Signor Joson Mi dispiace ma Con tutto il dovuto rispetto La raccolta fondi con il tofu può aspettare I miei sentimenti sono stati feriti Hiro Non ti sei dimenticato che sei ancora sotto contratto vero? Beh io Andiamo ai contratti Basil ha bisogno di noi Dobbiamo andarcene Hiro Non ascoltarla Hiro Perché dovresti farlo? Non hai neanche firmato un contratto con lei Non do ascolto a Dobri per vedere un contratto Le do ascolto perché è mia amica Le chiedo scusa signor Joson I miei amici sono molto più importanti Di un insignificante pezzo di carta Insignificante pezzo di carta Mi offendi ragazzo Ti ho accolto che eri solo un bambino senza alcuna esperienza E ho fatto ridere il dipendente supremo Non saresti nulla se non fosse stato per me Arrivano gli agli sgherri sicuramente Eccoli qua La punizione per aver violato un contratto E' la morte Ti insegnerò a rispettare i tuoi superiori Ragazzi Sareste così gentili da mostrare a questi bambini la via d'uscita? Ma certo Colpo potente al signor Joson Falleggio di Rimbalzo di Kel E abilità di Hiro che non può attaccare Vediamo dei giochi che possono fare male Vai un elastico per il signor Joson Ah e signor Joson non riceve danni fino a che non elimino gli agli sgherri Va bene Qual è il problema? Ah sono forse più forti questi A quanto pare Ok andati Bene Cala la difesa Ma ne chiama altri? Ah Ne chiama altri Vai Un altro elasticone Per ridurre la difesa Wow Putto colpo Andato Perfetto Ok ora possiamo colpire lui quando non ci sono gli agli sgherri Voglio questi bambini fuori di qui Hai capito? L'alli sgherri che li batterà fuori avrà una pizza gratis giuro sui miei avi Che intendi con la corte di alli sgherri? È impossibile Eh vabbè ma scusami Allora siamo con Kel prima quindi Snack Con Kel rido un po' di succo A Obri Obri fa una giravolta contro l'Allis Guerra Ho ricaricato Mori con Con Kel Che mi ha fatto malissimo l'Allis Guerra tra l'altro A prossimo turno Se elimino l'Allis Guerra No ne chiamo un altro Accidente Il signor Josom Sembra non abbia molta salute Quindi a prossimo attacco se elimino l'Allis Guerra Ce la facciamo Oh no si arrabbiano Non posso rilasciare l'energia Non colpire il signor Josom Sarebbe uno spreco Mi chiama un altro Ok Vabbè a sto punto ci provo Per quanto possa andare male Dai vediamo se va Se va va se non va non va E infatti E infatti non l'ha colpito Non importa Non importa Vi siete lasciati sconfiggere da un frango di mocciosi? Per cosa diavolo mi avrei assunto? Ah per Sì in effetti era debolino lui Quindi Ecco perché La rotta non è molto difficile Hai ottenuto contratto Posso stracciarlo quindi Omori 24 Obri 23 Impara schiaccia bene Hero a 23 E Kel no Non niente 24 Perché già stava a 23 Buy high Sell low Eh no Il contrario dovrebbe essere Cacivamente è questo? Basta così Calmatevi ragazzi Non andremo da nessuna parte in questo modo Andate via Bravi Devo ammettere Che voi bimbi siete davvero forti Ma non importa Hero non è l'unico dipendente Supremo alle mie dipendenze Io ne ho Ancora un altro Puoi entrare ora Pluto Noo Plutone Sono io Kel Non ci hai riconosciuti Siamo i tuoi amici Mi spiace Kel Nulla di personale È solo una questione di affari Noo Vediamo come ve la cavate Contro la forza di un ex pianeta Plutone Mostra a questi bimbi Il tuo vero potere Subito signore Mi dispiace Questa è la fine del vostro viaggio Ma aspetta Mamma mia Santo cielo Bambini Osservate Questa è la mia forma originale Riuscite a sentire Il calore Non so se era così In inglese Ma è praticamente Una reference A A Dragon Ball Palese Andiamo con i pendenti Andiamo con Colpo potente Ok Ok Giochi Ho un elastico Vai Vediamo quanto li facciamo male Bellissimo però Pluto Bellissimo Mamma mia Hero Oddio gli faccio pochissimo Continua a cercare di indebolirgli la difesa Con i colpi potenti di Obri L'elastico che gli lancia Hero Quindi che è l'attacca per secondo ora Sono più forte con Omori Più veloce Ok Non può essere più bassa la difesa Immaginavo Ok Ricarico un po' di saluti Omori Obri deve ricaricarsi succo Assolutamente Ui Ok Va bene Non so se mi conviene Aspettare Per Eh Mi sa che mi conviene Aspettare Che mi carico L'attacco finale Perché Ma come stanno andando le cose Attacco con tutto quello che ho Più o meno Però intanto Ricarico anche gli altri Perché sennò Davvero pessima la situazione Ah Capisco Si erano tutti diventati più forti Ma Lo sono anch'io No 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 Cala la velocità Ma aumenta la difesa Voglia Omori non soccombe E meno male Velocità Velocità di tutti Cala Perché tutti Ok Cala attacca per primo Poi attacca Omori E con Omori Mi sono ricaricato Perché Sto davvero messo male Anche se non basta Credo Dovrei usare un'abilità Dovrei usare un'abilità di hero E non attaccare con hero Eh ma Prossimo turno Mi sa che inizio a fare Un po' di magheggi Con Con gli attacchi Perché Oddio Allora Ignora la difesa Quando Mori è triste Attacchiamo quindi Con la coltellata Cobri Colpo potente Che è il palleggio E L'abilità di hero Tutta la vita del party Con ora della merenda Bene Ok la difesa non può essere Più bassa Va bene Vai con lo spuntino Allora me la gioco adesso Me la gioco adesso Dopo questo attacco Me la gioco Allora Attacchiamo così Con lei anche Attacchiamo Un attacco normale Con tutti Ma ci passiamo L'attacco di continuo Eccolo qua Spero sia andata bene Pensavo di potermelo passare di più Invece ho fatto male i calcoli Ok manca poco Ci siamo allora Vai Vai Amore attacca con un fendente Con una coltellata Attacca con un fendente Dai Dai che ci siamo No 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 Ti prego resistete amici Ok No Non permetterò a Kel Di soccombere Life jam Su Kel Dai che è fatta amici miei Dai che è fatta Oh No No Potrebbe farci del serio male Ok Ho resistito Va bene Non fa niente Non fa niente Non fa niente Snack Confezione di jam Per far rimanere Tutti quanti gli amici tostati Ma non va bene Se Se non resistiamo A prossimo No Ho perso Accidenti Tu dovevo attaccare Forse Era la cosa migliore Da fare Scusatemi i bambini Siamo stati comunque Molto bravi Anche se non abbastanza Ma cosa Ma siamo Ma Ah perché ho sconfitto Mori Solo perché ho sconfitto Mori Ma certo che voglio riprovare Voglio prendermi la rivincita totale Sono cattivo Sono cattivo Ma lo voglio fare No Niente Ben fatto Bambini Avete fatto Molta strada Ma Non ho ancora finito Ma neanche io avevo finito Veramente Ti potevi potenziare Poi facevo il mio attacco Obri 24 Cal 24 Hero 24 E impara merenda per 2 Ora devo un attimino vedere Gli attacchi nuovi Di Obri e di Hero Siete diventati davvero forti Sono così Orgoglioso di voi Ma Nonostante tutto Ho un lavoro da svolgere E conto di portarlo a termine Fatevi sotto Bambini Osservate La vera definizione Di forza Quando Faccio una flessione Mi sento un campione Ok ok Basta così Basta così Ah Calmati Plutone Ho già perso un ottimo dipendente Non voglio perderne due Ma signore Posso sconfiggerli Mi dia solo un po' più di tempo Assolutamente no Plutone Non voglio perdere nessun altro oggi Va bene Ora andatevene Non siete altro che una spina nella pinna Comunque Grazie signore Non se ne pentirà Certo certo Non c'è proprio nulla che io possa fare Per farti rimanere eh Che peccato Qui avresti potuto raggiungere Il tuo massimo potenziale Signor Josom Prima che me ne vada Volevo dirle una cosa Anche dopo averci rapito E averci ingannato Facendoci firmare Dei contratti discutibili Penso che lei sia un tipo Abbastanza a posto dopo tutto Hero Quello che sto per dirti Potrebbe sorprenderti ma Ti ho sempre considerato Come il figlio Che non ho mai avuto Sono sicuro Che avrei successo Nella vita Ora fuori dai piedi Non vedete che sono occupato? Grazie ancora signor Josom Ok ragazzi Ora che siamo nuovamente insieme Possiamo tornare alla ricerca di Basil È stato un lungo viaggio Ma siamo sicuro che lo troveremo Non arrendiamoci Hai ragione Hero Ormai siamo vicini al vino del traguardo Me lo sento Aspettaci Basil Che troveremo in me Che non si dica Questo è proprio ciò che volevo sentirvi dire Andate a prenderlo Ragazzacce Prima di uscire da questo postaccio Voglio vedere se posso esplorare Un altro pochino Ma il grafico va giù Azioni che scendono Not stones Esatto Not stones Ah l'ascensore non si apre Ok Partita a biliardo No Ok Ah giusto Prima che mi dimentichi Oh ma riprendi questa Il signor Josom mi ha dato affinché potessi fare i suoi giù per l'ultima spiaggia Più velocemente Test era per VIP Wow Ecco fatto Ora tutti gli ascensori saranno più veloci Vi avverto però A volte potrebbero verificarsi delle improvvuse turbulenze Intanto ricarichiamoci E poi possiamo anche concludere il video Wow bellissime ste due boss fight O meglio Una non era proprio una boss fight Era combattere gli Alice Gary E l'altra era combattere Plutone Molto potenziato Wow Davvero davvero carina quella lotta Allora andiamo ad amici Video termina qui Nel prossimo proseguiremo Per la strada che non ho esplorato nello scorso video Perché volevo farla con Obria Dato che ci serviva lei Ma almeno siamo tutti qua Tutto quanto il party E possiamo essere Salire di livello insieme Bene Io vi ricordo come sempre Che in descrizione trovate tutti quanti i link Utilessi ancora Non siete iscritti al canale Magari iscrivetevi E noi Ci vediamo ovviamente Alla prossima Bye bye